Quali possono essere altre tecniche per effettuare un compositing, quindi una sovrapposizione di più livelli all'interno di una timeline? Abbiamo visto come sia possibile farlo attraverso l'utilizzo di maschere, mascherini, piuttosto che l'utilizzo di effetti di green screen. Parliamo adesso invece di come sia possibile effettuare un compositing anche lavorando sulle opacità. Credo che conosciamo tutti il significato del valore di opacità. Ma il valore di opacità, che potremmo modificare anche dalla timeline direttamente, ci permette di abbassarne la presenza in un livello, o quindi in una traccia video, esattamente come faremmo all'interno di Photoshop. Ma all'interno dei valori di opacità in Premiere Pro disponiamo, come in Photoshop o come in After Effects, non soltanto dal valore di opacità, ma ad alcune versioni anche dei metodi di fusione. Allora scopriremo come questi metodi di fusione possono essere utilizzati proprio in funzione del compositing, quindi per creare qualcosa di più interessante. Passiamo subito ad alcuni esempi. Iniziamo con alcuni esempi pratici partendo da clip video reali. In questo momento abbiamo in una cartella posizionato alcune clip video di bruciature di pellicola. Vi garantisco che non sono niente di incredibile da trovare in rete, ci sono interi librerie di banche dati soltanto di bruciature di pellicola. Questo è forse fra tutti il modo migliore per realizzare una vera bruciatura di pellicola, quindi un vero effetto invecchiato sulla pellicola. Possono essere utili per aprire, per chiudere i nostri filmati, piuttosto che per dare un tocco diverso al girato che abbiamo realizzato. Se volessi utilizzare questi in sovraimpressione, cosa dovrei fare? Siamo all'interno del browser multimediale, posso scegliere se importarlo con il tasto destro oppure direttamente li posso collocare in timeline. Il primo problema che si presenta è che nel mio caso specifico, questo filmato, che è un filmato a tutti gli effetti, un filmburn-6.mov, ma potrebbe essere un avi, un mov, potrebbe essere, come vedremo più tardi, anche un file statico, a un problema di dimensione. Nel nostro caso, ingrandiremo quindi il file posizionato nella traccia video 2 per adattarlo alle dimensioni del fotogramma. Vi ricordo che per fare questo, per adattare un filmato a una timeline, tasto destro ridimensiona a dimensione fotogramma. Non ci preoccuperemo troppo della perdita di qualità, perché comunque questo servirà non come immagine principale, ma come immagine di sfondo, come texture che andrà ad interagire con il filmato. Quindi anche dovessimo perdere della qualità, diciamo che nessuno ce lo farà notare. Posizionato così com'è, ovviamente tutto questo non c'è senso. Se andassi a lavorare con le opacità e abbassassi l'opacità, sì, potrebbe essere interessante, ma fino a un certo punto. Come vedete, posso sì lavorare con l'opacità, ma comunque non ho la visione dell'immagine. Potrei magari abbassare l'opacità e poi farla comparire meglio, però secondo me ci sono metodi anche migliori. Resettiamo l'opacità, cancelliamo i fotogrammi chiave che eventualmente sono stati creati e lavoriamo invece che con la semplice opacità con i metodi di diffusione. I metodi di diffusione sono metodi matematici con cui un livello può interagire con la traccia sottostante. Questo vale per Photoshop, Premiere, After Effects. Sono divisi in gruppi e ognuno di questi gruppi rappresenta un modo diverso di lavorare. Possiamo lavorare scurendo l'immagine, schiavendola, lavorandone con il contrasto, lavorando con metodi matematici puri oppure lavorando su uno di questi quattro valori di luminosità, colore, saturazione o tonalità. Proviamo a lavorare ad esempio in luminosità. Cosa significa lavorare in luminosità su quest'immagine? Che il filmato posizionato nella traccia superiore lavorerà e bucherà soltanto i valori di luminosità rispetto al livello sottostante. Come vedete non è molto interessante. Generalmente per cose di questo tipo potremmo dire che quello che funziona un po' meglio di tutti potrebbero essere gli effetti di luce soffusa. Questo perché nel metodo di diffusione luce soffusa bruciamo prima i bianchi. Su questo ci basiamo per effettuare il buco, quindi per rivelare l'immagine sottostante e come vedete effettivamente il luce soffusa funziona decisamente meglio. Se mandiamo in play, eh sì, questo sì che funziona perché abbiamo preso il colore, non abbiamo interagito troppo con l'immagine, quindi non l'abbiamo neanche snaturata come potrebbe essere prima che era anche troppo invasivo lavorare semplicemente con l'opacità, ma abbiamo l'immagine ma con una variazione cromatica data proprio da questo metodo di diffusione. Il consiglio che vi do è sbizzarirvi un po' con quello che volete ottenere. Vedete come il moltiplica utilizza molto di più l'immagine sovrastante perché è un metodo che tendenzialmente scurisce, quindi mantiene anche molto dell'immagine che sta a livello superiore. Così come potrebbe essere il metodo sovrapponi con un contrasto ancora più accentuato del luce soffusa. Tutti questi sono effetti che realmente vi consiglio di andare a provare, sperimentare a seconda soprattutto di che cos'è l'immagine di partenza. Come potrebbe aprire a questo punto il nostro filmato? Ma potremmo prima di tutto applicare una dissolvenza in testa al filmato. In questo caso invece che andare dagli effetti e lavorare con le dissolvenze, lo farò da tastiera. Facendo MelaD applico una dissolvenza. Notate questo piccolo trucchetto. Io ho applicato la dissolvenza a pellicola, che era la mia dissolvenza predefinita, a entrambe le clip video. Come ho fatto? Ricordatevi sempre di attivare la traccia video sulla quale volete lavorare. Diversamente se io avessi lavorato soltanto con la traccia video 1 attiva, vi ricordo voi ho applicato la dissolvenza soltanto sulla video 1. Attivando la video 2 applicherò la dissolvenza MelaD o CTRLD anche sulla traccia video 2. Decisamente più interessante. In chiusura di questo spezzone, di questa clip di bruciatura di pellicola, potremmo applicare un'altra dissolvenza per rendere più agevole il passaggio. Magari la accorciamo un pochettino, magari accorciamo anche la dissolvenza ed ecco pronto il nostro filmato. Apriamo con una bruciatura di pellicola per poi far partire il filmato reale. Qui sicuramente andrà fatto un lavoro di color correction per adattare meglio l'immagine dal punto di vista cromatico all'immagine di partenza della bruciatura di pellicola. Perché effettivamente è un'immagine parecchio fredda con una molto calda. Altro piccolo trucchetto che vi racconto nel caso in cui voleste provare più soluzioni. Ritorniamo nel browser multimediale e invece che provare questa che abbiamo appena lavorato, che era la Filmburner 6, che mi pare che è una di queste, chissà dove è finita. Diciamo che voglio provarne un'altra. Il consiglio che vi do è quello di non cancellare questa, rimettere questa, riadattare, tasto destro, ridimensionare una dimensione per lì, fotogramma e applicare due dissolvenze. Potete fare tutto questo molto velocemente da tastiera, semplicemente premendo un tasto. Selezioniamo la clip sulla quale vogliamo lavorare e nel momento in cui trasciniamo una clip, invece che trascinarla a punto e basta, teniamo sempre premuti il tasto alto. Quando clicco e trascino, vedete che non è più un trascino la clip, ma è un trascino la clip al posto di questa. Cosa fa Premiere Pro? Sostituisce la clip con tutte le sue proprietà, quindi scalature eventuali, eventuali animazioni, in questo caso le dissolvenze in testa e in coda, la sostituisce con la clip che ci interessa, quindi con la nuova prova che vogliamo fare. Come vedete, in questo caso addirittura rende molto meglio questo tipo di sovrapposizione, perché lavorando con colori più freddi si adatta anche meglio all'immagine che abbiamo registrato. Questo tipo di sovrapposizioni, sto rimpicciolendo leggermente la timeline per spostarmi sull'immagine successiva, potrà essere fatto non soltanto con immagini in movimento, ma anche naturalmente con immagini statiche. Pensate ad esempio là dove vogliamo lavorare con delle texture. Ho preparato delle texture molto brutte, ma funzionali per farci capire che cosa stiamo per fare. Abbiamo una texture, anche in questo caso potrò lavorare sì con l'opacità e abbassarla, o meglio ancora con un metodo di fusione per dare una texture a tutta quanta l'immagine, o magari in luce soffusa per essere meno aggressiva. Vedete come la texture compare in sfondo per quanto riguarda la presenza sull'immagine. Anche qui, che si tratti di un'immagine statica o che si tratti di un video, sempre tenendo premuto il tasto Alt, posso provare tutte le combinazioni che mi parano plausibili, che mi sembrano utili alla mia immagine. Quindi quante texture volete, quante immagini volete. Naturalmente che fossero file PSD, che fossero file d'immagine, quindi potrei utilizzare anche delle fotografie. Ovviamente in questo caso è una roba che non si può vedere. Meglio utilizzare delle texture pensate per l'occasione, ma il concetto è sempre lo stesso. Quindi che si tratti di una bruciatura di pellicola, che si tratti di una texture, tranquillamente possiamo utilizzarlo come ci pare e piace. Un altro eventuale metodo di utilizzo del compositing, per l'utilizzo appunto dei metodi di fusione, è lavorando con mascherini colorati. Mascherini colorati non sono altro che pannelli, possiamo così chiamarli uniformi, di colore, grandi quanto tutto il nostro fotogramma. Per creare un mascherino colorato abbiamo varie soluzioni. Dal menu, nuovo elemento all'interno della cartella di progetto, all'interno della finestra di progetto possiamo richiamare la voce mascherino colorato, verso il fondo, oppure dal menu file, nuovo, mascherino colorato. Il mascherino colorato ci chiede quanta sarà la dimensione di questo mascherino, appunto di questo colore. Diamo pure ok, perché andrò a riprendere le dimensioni della timeline in questo momento, e diciamo che vogliamo un mascherino un po' caldo. Diamo ok, caldo. Questo mascherino lo possiamo applicare al di sopra come colore, esattamente su tutta quanta la timeline, e in questo caso, fatto così, ovviamente non c'è interazione. Lavorando con l'opacità sempre e i metodi di fusione, ecco che il risultato cambia notevolmente. Quindi potrei avere addirittura una dissolvenza, magari applicandola con mela D sempre al volo, che dissolve nell'immagine virata, per così dire, dal mascherino colorato applicato con un metodo di fusione. Questo, per chi magari utilizza Photoshop in maniera un po' più avanzata, potrebbe essere utile anche per effettuare delle color correction, perché un mascherino colorato posizionato al di sopra con un metodo di fusione, anche essa è un metodo per controllare una variazione di colore, anche perché inoltre avremo a disposizione il valore di opacità, che ci permetterà di scegliere appunto la presenza di questo colore nell'immagine. Vogliamo un'immagine originale, spegniamo momentaneamente il mascherino, vogliamo un'immagine più calda, ecco che il mascherino potrebbe andare a riscaldarla. Anche se non abbiamo ancora parlato di titolazione, vi lascio giusto con un accenno di quello che possiamo fare con i metodi di fusione all'interno delle tracce, ovvero la possibilità di lavorare con i metodi di fusione anche insieme, in combinata con l'utilizzo dei titoli. Ad esempio, in questo caso, invece che avere un bianco semplice al di sopra di un'immagine, potremmo lavorare con un metodo di fusione, anche in questo caso, quindi avere una luce soffusa che rende sicuramente più interessante il tipo di titolo che stiamo utilizzando lo fa interagire meglio con l'immagine, piuttosto che un sovrappone per rendere ancora più netto il contorno e quindi il contrasto fra le immagini.